Bene, questa prima partenza dello Spartan Race c'è da essere veramente, guardate, soddisfatti. Migliaia di atleti e di atlete provenienti da tutte le regioni d'Italia e anche dall'estero. Abbiamo salutato canadesi, australiani, americani, da vari stati americani, belgi, polacchi, francesi, inglesi. Veramente c'è soddisfazione a passeggiare in mezzo a loro, soprattutto perché li vedi entusiasti, felici di essere qui. Ogni quarto d'ora, lo dico per chi ci può ascoltare, può raggiungere qui la Pineta Cimino, l'area Cimino. Ogni quarto d'ora parte una batteria di circa 200 atleti, ne sono partiti già la prima alle ore 8.30. Considerate quindi quanti atleti stanno partendo. Sono ancora impegnati nella lunga gara perché la più lunga dura 21 km e ha ostacoli di tutti i tipi. C'è da essere soddisfatti, mi auguro che poi nel pomeriggio dalle 18, come già sta avvenendo, molti turisti siano in centro e sono in centro per gustare le nostre bellezze, quindi al Marta, all'Ipogei che sono aperti, al Palazzo Pantaleo. Sono due giornate per la nostra città di festa, veramente c'è da essere soddisfatti. Un grazie a tutti gli studenti che ci hanno dato una mano, un grazie veramente a tutti perché il successo di questa città deve essere considerato il successo di tutti. Grazie a tutti.